La podistica Valmisa con il patrocinio del Comune di Serra dei Conti organizza la terza edizione di 6 Ore dei Conti. Sabato 1 luglio a Serra dei Conti, l'unica gara di ultramaratona nelle Marche. Centinaia di atleti arriveranno da tutta Italia. La maratona quest'anno è stata inserita nel Grand Prix della Federazione Italiana di Ultramaratona. Sabato 1 luglio a Serra dei Conti, 6 Ore dei Conti. Tutto l'evento in diretta Facebook su RWE.